Allora, premio Uvo alla scrittura, all'autore, un premio che sembrerebbe personale ma in realtà è un premio che devo condividere quantomeno con quel cast straordinario, quel dono divino, i 11 interpreti che hanno reso un fatto teatrale leggerissimo quel meccanismo infernale che io ho messo su carta. Qualcuno però ha reso quel meccanismo anche un orologio perfetto tra video, attori live, attori in video che sono protagonistoni, sono i nostri tecnici, quindi condiviso anche con loro qualcun altro ha fatto le scenografie meravigliose, la gente dopo lo spettacolo dice ma le vendi quelle sedie? No, non le venderò mai, qualcuno ha fatto i costumi, tante maestranze che hanno collaborato e qualcuno ha creduto nel progetto artistico e nel progetto produttivo e ha messo anche la sostanza economica perché questa macchina così complessa potesse stare insieme, quindi questo premio non è un premio personale ma è un premio di tutti questi, grazie veramente.